Buonasera e benvenuti. Appuntamento a questo tardo pomeriggio con le INET Lecture. Le INET Lecture rappresentano il ciclo di appuntamenti curato dall'Institute for New Economic Thinking che ha dimostrazione di quanto persegua un approccio innovativo rispetto al pensiero economico e soprattutto diverso rispetto all'economic mainstream, ospita questa sera un political scientist. Un political scientist all'insegna della interdisciplinarietà, cioè il professor Thomas Ferguson, di cui vi leggerò tra poco la ricchissima biografia. Mi corre l'obbligo e il piacere di ricordare che INET Lecture, che organizza all'interno del Festival dell'Economia questi appuntamenti davvero interdisciplinari, ha donato 120 borse di studio per studenti all'insegna di un percorso di ricerca nell'economia per l'appunto ispirato, improntato alla contaminazione e al tentativo di rendere l'economia davvero diciamo così polisemica ed ecosistemica. Qui in sala sono ospiti o hanno partecipato a queste edizioni recenti del Festival, Andy Aldain, Robert McChesney, Wong Ui, Marcello De Cecco, Savaras Storm e Rob Johnson, che siedono nel board e negli organi di governo dell'Institute for New Economic Thinking, il cui direttore dei progetti di ricerca e membro del Consiglio d'amministrazione è per l'appunto il professor Ferguson, di cui do lettura della ricca biografia che vi anticipavo. Professore di Scienze Politiche, innanzitutto politologo esimio, insegna all'Università di Massachusetts ed è Senior Fellow del Roosevelt Institute, dopo aver insegnato all'MIT e alla Università del Texas. Ha pubblicato all'interno del Quarterly Journal of Economics, all'interno di International Organization, di International Studies Quarterly e nel Journal di Economic History ed è membro del comitato consultivo per l'appunto dell'Institute for New Economic Thinking, ma anche un'attività di columnist e di persona che interviene, di intellettuale impegnato, che interviene sulle questioni all'ordine del giorno del dibattito internazionale, su Luffington Post, su Salon e ha scritto ripetutamente per The Nation, celebrare in una rivista statunitense. tra le sue pubblicazioni più importanti Golden Rule, pubblicato da University of Chicago Press e Wright Tarn, pubblicato con G. Rogers, pubblicato da Hill and Wong. La presentation di questa sera è dedicata ad un tema centrale, uno dei temi più trasversali rispetto ai numerosi topics di cui si è occupata questa edizione del Festival dell'Economia. Il titolo che è stato scelto è I partiti del primo mondo, cioè delle democrazie capitalistiche avanzate o tardomoderne e contemporanee. La lecture del Professor Ferguson ci dimostrerà, a partire da uno degli approcci che ha contribuito ad elaborare, quello dell'Investment Free of Politics, che a differenza delle teorie più convenzionali, quelle sull'elettore mediano e che si concentrano sulla figura per l'appunto dei voters, ci sono pesi e contrappesi differenti all'interno della capacità di voto e soprattutto della capacità di influenzare il dibattito e le indicazioni all'interno dei processi di consultazione nelle democrazie liberali. In particolare possiamo dire che ci sono alcuni voti che pesano più di altri, alcune decisioni e preferenze di voto maggiormente influenti. Questi influencer sono alcuni gruppi, lobbies, financial elites che rappresentano il tema della discussione di questa sera. A voi il Professor Thomas Ferguson. Grazie mille. Grazie molto Giuliano. Sono molto lieto di essere qui, non solo perché questa città è bellissima, ma perché è straordinario essere in un posto in cui ci sono delle fotografie di economisti in cui sembrano essere rappresentati degli artisti. Ecco, devo dire che sono cresciuto come molti altri, come un cattolico, come presso molti di voi. Se conoscete la storia della Chiesa Cattolica Americana sapete che lo spirito del Concilio di Trento è penetrato molto nel cattolicesimo americano nel 1910 circa. Sono cresciuto quindi sentendo sempre parlare di Trento, del Concilio di Trento continuamente. Quindi quando sono arrivato qui ho avuto la sensazione che praticamente sono stato qui tutta la mia vita. Mi sembrava di essere sempre stato qui. Mi rendo conto che ci sia anche un'ironia nel dire che questo è il posto in cui è svanito il tentativo di far stare insieme l'Europa. E qui si è assunta una posizione un po' da guerra fredda, diciamo, che ha contrastato questo spirito unitario. Devo dire che poi mi sento anche un po' piccolo nel parlare qui. Io parlo varie lingue ma non l'italiano. Questo mi mette un po' in imbarazzo. In realtà parlo 4-5 lingue ma purtroppo devo rifugiarmi in quanto un politico dell'Arcansol del 1910 ha detto se l'inglese era buono per l'inglese allora deve andare bene anche per me. Un altro aneddoto. Insegno anche l'unità del Texas è stato detto. E devo dire che lì sono stato sensato rivolizzato dall'ambiente circostante. È difficile trasmettere quello che succede in un posto del genere. Erano lì negli anni 80, il Texas era forse la capitale energetica del mondo. Si sentiva un po' come si sentiva di essere proprio un posto di frontiera, di capitalismo. Si incontravano delle persone nei bar che dicevano cose strane. Parlando di un po' come una specie di dialetto particolare. Ma io voglio sottolineare un attimo la cosa importante che volevo dire. Volevo parlare per esempio del rapporto tra un preside di facoltà nell'Università del Texas che diceva un collego c'è un conflitto di interessi e il presidente di una società ha detto non c'è nessun conflitto altrimenti se non c'è un conflitto non c'è interesse per cui il conflitto di interessi diciamo è un po' una tattologia. Detto questo parallelo adesso vorrei commentare la prima diapositiva. Volevo parlare di teorie, di evidenze relative ai politici nei paesi ricchi. Quando ho parlato di first world, di primo mondo, in realtà non parlo di paesi grandi e paesi piccoli, in realtà sappiamo che ci sono dei paesi in cui vige la cleptocrazia. La cosa che mi interessa piuttosto è la società capitalista avanzata. Adesso si parla più che altro di democrazie è caratterizzata dal mercato libero e questa è la sfera che più mi interessa e di questi paesi che parlerò. Ieri ho sentito una relazione molto bella ed elegante sulla crisi dell'Eurozona e si parlava in pratica della Banca Centrale Europea. L'affermazione che veniva detta è che la posizione della Banca nei confronti dei paesi della zona europea era veramente non democratica perché non si poteva in qualche modo convincere i paesi a fare quello che il mercato finanziario desiderava e quindi l'integrazione burocratica non è andata a sostituire l'integrazione democratica e l'analisi in quella relazione si concentrava sulla differenza nel costo del lavoro. Adesso vorrei citare due relazioni che ho ascolto, una in una conferenza in etta recente che è stata presentata a Grenoble in Francia e poi farò riferimento anche alla nozione di balance sheet recession che è stata messa a punto da Richard Kuh. Si tratta di un'analisi che in realtà non aiuta. Credo che se consideriamo l'Eurozona e queste due relazioni facevano riferimento a quello, dobbiamo pensare che dopo la crisi del Neuer Markt in Germania, la banca tedesca insieme a quelle francese, britanniche e americane cercavano semplicemente di trovare business e disponevano di molti finanziamenti e quindi hanno in qualche modo trasferito moltissimi finanziamenti nell'Europa periferica. E questo sembra un po' quello che è successo anche nell'America centrale con una crisi che si è ripetuta più volte anche in precedenza. e questo ha portato alla gonfiare la bolla. Dopodiché c'è stato questo aumento dei salari che si è verificato di conseguenza. E quindi la crisi dell'Eurozona in qualche modo è stata causata da un'incapacità di bloccare le banche, l'attività delle banche. Quando si parla di errori delle banche, bene, la prima cosa è che in realtà non si è potuto mettere sotto controllo le banche. Il perdiso di un mercato integrato di grande dimensione che sembrava un po' appunto l'obiettivo. Era assolutamente impreparato ai Godzilla e King Kong che in realtà avanzavano sull'orizzonte. Le banche non sono state appunto tenute sotto controllo. Si è verificato poi... A un certo punto hanno fatto una domanda molto interessante. Come mai i paesi hanno salvato le banche? Che cosa c'è di democratico in questo? E questo è successo appunto a seguito della relazione di cui ho parlato. Ho lavorato un articolo con Johnson in cui si dice che i paesi che hanno in qualche modo penalizzato le banche sono quelli segnalati in blu e quelli a basso a sinistra che sono cerchioletti vuoti sono paesi che praticamente non hanno imposto nessun tipo di punizione. alle banche che non avevano agito in modo etico. Vedete che c'è una separazione netta fra coloro che hanno fatto pagare le banche per i loro errori e coloro che non hanno fatto pagare le banche. In realtà la verità è che nessuno si è comprato bene. I tedeschi adesso cercano di... Stanno salvando la Commerzbank e cercando di riprendersi il 25% che avevano dato. Però vedete che la Commerzbank è ancora attiva e con malgrado la crisi in cui è incappata. concentriamoci sull'eurozona. Secondo me la crisi europea è diversa. I paesi in qualche modo hanno pagato i debiti privati in una qualche misura e questo ha fatto esplodere il rapporto debito-PIL in molti paesi e ha spaventato gli investitori. Quindi la banca centrale europea è intervenuta per salvare sia gli investitori che le banche che i paesi con le loro politiche monetarie. Le banche centrali di questi paesi hanno garantito alle banche di sopravvivere. In realtà gli europei però non hanno ottenuto questo tipo di salvataggio. I singoli non hanno ricevuto nulla. Io e il collega stavamo lavorando a questo problema e abbiamo visto che una cosa simile si è verificata negli anni 30. In realtà non si è mai risolto quello che era successo negli anni 30. Le banche sembravano essere sicure ma non c'è in realtà un impulso alla crescita e alcuni dei lettori di ieri hanno sottolineato che molti paesi avevano dei rapporti tra debito e PIL che sono senz'altro aumentati. E la cosa che spaventa tutto ciò è che in situazioni di questo tipo praticamente sembra di essere in qualche modo come un transatlantico senza combustibile e un po' a rischio. In questo caso quindi dopo le elezioni politiche ci si trova in una situazione in cui come è successo in molti altri paesi negli anni 30 ci si trova in oscillazioni politiche tali per cui chi aveva un ruolo di potere viene cacciato via, altri rientrano e se si adottano delle politiche di austerità si rientra al potere e il centro della politica in qualche modo scompare e questo è quanto sta succedendo in Europa attualmente. La ragione quindi per cui vorrei parlarvi adesso è che dobbiamo parlare delle banche l'analisi politica e tutto quello che ascolto, tutto quello che leggo secondo me è errata. In America si lavora forse in modo più mirato in questo caso analizziamo per esempio il giornalismo e la politica in Europa, in tutti i paesi e credo che gli europei dicevano sempre di sì quindi non credo di essere poi così sbagliato di aver così sbagliato perché tutti erano d'accordo con me l'approccio analitico di base in Europa quando si valutano le elezioni pensiamo a questo elettore mediano pensiamo a un'elezione in cui l'elettore sia un po' nel punto centrale io ho detto che c'è un grosso problema appunto nel considerare quell'elettore medio non lo scappiamo esattamente che cosa sia si pensa che tutto quello che sentiamo dire sia tutto quello che vada detto in realtà non è così non si può dire niente all'elettore che non possa essere finanziato non si può promettere niente quando poi si valuta la teoria democratica come quella per esempio di Miller-Lock secondo la tradizione britannica si vede che danno per scontato che gli elettori votano e secondo l'Oc è chiunque secondo Miller e viceversa sono molte persone ed è facile trovare delle informazioni prendere una decisione a tutti sembra di capire un po' la situazione di poter votare ma in realtà questo è assolutamente errato bisogna poter valutare quelli che sono i costi della democrazia e questo ci porta a quanto se pago il costo della democrazia in modo tale da far sì che tutti contribuiscano in misura pari piuttosto che molti paghino tanto e quindi detengono maggiore potere comunque mi rendo conto che gli Stati Uniti sono sempre il caso di studio ma in realtà gli Stati Uniti stanno dimostrando al resto del mondo come comportarsi i partiti politici adesso sono per lo più corrispondono a conti bancari e poco più quindi come si può analizzare i partiti politici ed è di questo che vorrei parlare se puoi brevemente questo è un festival dell'economia e quindi adesso cercherò di raggiungere la mia conclusione in tempi brevi proviamo a immaginare dei gruppi di investitori che possono essere delle persone che investono molto ma immagino che sappiate anche qui è un po' un cliché il fatto che l'affluenza alle urne è bassissima ovunque negli Stati Uniti ormai siamo già abituati abbiamo visto praticamente un numero sempre decrescente di persone che vanno ad avviatare magari qualcuno non ci crede però comunque dal 1900 al 1950 il numero di persone che andavano a votare nel paese solo stato della Georgia è aumentato del 6-7% comunque il nostro livello di affluenza alle urne è aumentato molto limitatamente io penso che sia giunto il momento che gli europei cominciano ad analizzare i sistemi politici non credo che si possa continuare come stiamo facendo se non riusciamo a trovare ad analizzare il potere che detengono le banche ed altre grandi aziende sia nei paesi dell'Unione Europea e da noi allora credo che ci troveremo davanti alla dissoluzione dell'Europa adesso non sto dicendo che dobbiamo uscire dall'Europa assolutamente non sto dicendo questo dico semplicemente che se non riusciamo a fare un'analisi seria dei poteri detenuti dalle banche allora alla fine l'Unione Europea probabilmente si svanirà svanirà prima di quanto non pensiate e credo che la Francia sarà forse il paese più importante come spesso è successo in questo processo di sgrettolamento dell'Europa molti europei pensano che i partiti politici si occupano di difesa degli interessi dei lavoratori più di costo che difesa degli interessi delle imprese in Svezia per esempio succede così sembra che ci siano dei partiti che difendono i lavoratori e altre le aziende ma in realtà non è più così adesso questo è assolutamente superato l'abbiamo visto anche negli Stati Uniti l'abbiamo visto che è stato superato da tempo fino al New Deal non c'erano in realtà non c'era nessuno che difendesse l'interesse dei lavoratori dopodiché vediamo che il partito democratico effettivamente si è legato ai lavoratori e anche i sostenitori di Roosevelt si occupavano comunque dei lavoratori e quando Lino Johnson e John Kennedy sono diventati presidenti ebbene il gabinetto di Johnson per esempio rappresenta proprio quello che stavo dicendo io c'erano tutta una serie di funzionari di grandi aziende credo che ci fosse uno solo del partito laborista tutti gli altri erano praticamente rappresentati di grandi aziende era un partito veramente molto particolare e quindi capisci che se c'è una situazione con un partito laborista molto basso se vedi che coinvolgi anche rappresentati delle grandi aziende ti rendi conto che cosa potrebbe succedere sono quindi i rappresentanti delle aziende più importanti delle multinazionali che vanno a ricoprire ruoli importanti nella politica e oggi in Europa vediamo che i partiti di sinistra sono diventati molto meno radicali di quanto non fossero i socialisti per esempio in Francia c'è sempre stata questa cosa per cui i socialisti non sono mai stati socialisti almeno non a partire dal 1800 comunque i partiti socialisti in molti casi adesso sono semplicemente dei partiti d'azienda per così dire a volte delle fazioni a volte sembra che i partiti europei c'è un grande libro che si chiama The Labour Party PLC pubblicato da una persona che ti faceva vedere che per esempio il partito britannico non era neanche laborista quello in Francia ci sono dei club di politici che svolgono un loro importante e che in realtà non vengono riconosciuti in Gran Bretagna Tony Blair ha messo insieme un ufficio che traeva grossi profitti diciamo dalle aziende per mettere insieme la campagna appunto per lanciarlo come primo ministro bisogna cominciare a pensare quindi dei rapporti tra politica e denaro vi faccio vedere adesso cosa si può fare in questo senso secondo me è difficile raccogliere evidenze in questo senso ho analizzato i dati britannici francesi e tedeschi e credo che in tutte queste tre cose ci sono dei dati che si potrebbero analizzare ma non lo fanno gli ultimi 12-15 anni ci hanno insegnato che la statistica non è stata sfruttata a pieno un collega dell'università di Texas aveva parlato di uno studio statistico che non è mai stato pubblicato e sosteneva che a volte i politici sono anche morti inaspettatamente e vedeva che le aziende a cui erano vicini quelle aziende si erano chiuse molti adesso fanno delle analisi dei rapporti tra la politica e le aziende e provo a vedere che cosa succede ai politici che sono vicini alla multinazionale parliamo adesso dei rapporti tra politica e denaro vi avviso questo è un diagramma di Brian Johnson l'ho messo qui per il mio paper questi sono i salari degli amministratori e soprattutto nel settore finanziario nel corso degli anni penso che comprendiate subito che quelli che comandano guadagnano meno di quelli che vengono regolamentati praticamente quelli che vengono regolamentati e amministrati prendiamo la Francia la supervisione bancaria chi sta al ministero della finanza comanda nelle banche per questo la supervisione delle banche in Francia non è andata bene per tanti anni però negli Stati Uniti questo me l'ha detto un ex regulator lì sono anche delle agenzie di lavoro per i regulated comunque questo non c'entra niente con i soldi e la politica se cercate un fattore generale che qui sia importante è semplicemente la diseguaglianza e questo sta diventando ovunque nel mondo un fattore principale detto chiaramente in alto man mano che i salari si discostano dal resto della popolazione ovunque le strutture governanti avevano cioè se si va a vedere ad esempio la presidenza degli Stati Uniti Roosevelt ad esempio ha lasciato una piccolissima biblioteca con pochi record praticamente è un complesso ad edifici con delle biblioteche enormi forse Obama e anche lì la sua library dovrebbe essere molto di più i soldi che sta cercando di raccogliere finché è in carica comunque sto cercando di dire che questo è un problema di soldi politici in senso stretto e faccio un altro punto guardiamo allo spettro dei soldi politici per un segmento andiamo a vedere lo spettro per il secondo anno negli Stati Uniti si dichiara in altri casi no comunque molti deputati tedeschi possono anche partecipare a delle aziende ed essere pagati comunque so che anche all'Ainet si parla molto di questo problema del finanziamento comunque se se conoscete il corrispondente del Handelsblatt potete parlargli comunque parlando di cifre politiche se uno chiede agli amministratori politici praticamente tutti quelli che vanno alla Casa Bianca come consulente c'era un consulente economico ad esempio che diceva di essere pagato a poco o meno di un milione di dollari per un'azienda un'azienda di finanziamenti per occuparsi di ricerca e filantropia ma non so come si fa ad essere pagato un milione di dollari per scopi filantropici solo per una consulenza è chiaro questo è un modo educato di mantenere qualcuno diciamo in giro cioè sono questi bonus che girano in certi ambienti poi il lobbying e i soldi del lobbying sono molto importanti nei paesi europei ci sono tanti sistemi diversi di lobbying soprattutto in Francia in Germania e a Bruxelles prevale il sistema americano e dappertutto va bene il sistema di lobbying dove c'è un ministero che invita delle persone a fare attività di lobby però si cerca di controllare l'attività di lobbying ma c'è e poi ci sono anche i think tanks che compaiono dappertutto in Europa più che fare thinking fanno tanking cioè sono più dei carri armati dei panzer comunque sappiamo che negli Stati Uniti alcuni buoni studi sono stati fatti sulle fondazioni quelle benevole di carità spesso ci sono delle fondazioni sono particolarmente interessate a progetti guidati dalle mogli di senatori e membri del congresso raccolgono un sacco di soldi come ha detto Stigler tanto tempo fa anche pagando gli avvocati una parte finisce in carità comunque un punto che voglio fare è che anche il settore delle stock tips è molto aumentato ci sono ottimi paper su questo anche se ci sono delle evidenze un po' in conflitto ma sembra che un paper interessante di Zabrowski ha dimostrato che il tasso di ritorno più alto nella storia che si conosce nel corso di 8 10 anni erano per i senatori americani quindi non erano Warren Buffett o George Soros nessuno riusciva ad equipararsi a quei politici capirete cosa voleva dire Zabrowski e quello che voleva dire su questi stock tips e poi ci sono anche delle spese formali per le per le campagne spese totali per le campagne federali tante medie che danno contratti l'impero di Murdoch adatto ai politici cinesi ai politici americani ai politici asiatici ai politici britannici contratti per per scrivere dei grossi libri per far questo ricevono un sacco di soldi io poi tutte le volte mi chiedono puoi farci vedere che queste cose contano e qui passo al mio grafico preferito non dovrebbe esserci questo per motivi di scienze politiche però qui la mia sfida ai giovani ricercatori è che lo si può utilizzare in alcune elezioni parlamentari europee forse i dati sono disponibili per la Francia comunque quello che faccio qui e l'ho fatto con i miei colleghi devo dire che questo non è un lavoro solo mio anche G Ceneb e Jordan ha lavorato con me abbiamo pubblicato questo studio abbiamo visto la percentuale di soldi ai democratici nella gara elettorale e poi il margine di voto vedete da zero a più o meno cento e c'è la linea che rettilinea che si ottiene c'è un'obiezione tecnica a queste regrezioni spaziali per le elezioni parlamentari forse si danno i soldi solo a persone molto popolari si può dire però ci sono un paio di approcci possibili prima di tutto diventa ancora più incredibile man mano che uno passa da un'elezione all'altra e quello che abbiamo trovato è che in ogni elezione di cui ci siamo occupati si ottiene questa correlazione lineare anche per le elezioni al senato americano e sappiamo che questo vale anche per un periodo di 24 anni circa però più in generale quello che si vuole fare in una situazione come questa è che uno vorrebbe introdurre uno strumento variabile per ottenere un controllo il problema di queste variabili strumentali nelle scienze politiche è che si finisce con litigare come avviene in tutti gli studi econometrici e tutti si chiedono ti sembra plausibile perché non ci credo ho trovato una tesi che funziona con certi variabili strumentali e poi i miei colleghi hanno detto serve una versione spaziale anche perché nessuno analizza le elezioni in termini spaziali anche se per chi di voi ne sa di statistica saprà che tutte queste correlazioni sono problematiche comunque questo dimostra che le elezioni parlamentari per l'America stranamente sono spinte dai soldi contano molto i soldi questo fa anche paure perché le elezioni parlamentari hanno una certa copertura io credo che questo sia un avvertimento sulle elezioni amministrative dove non c'è copertura e forse saprete negli Stati Uniti forse meno in Italia dove gli italiani leggono i giornali vedo almeno nei giornali un sacco di giornali che sembrano molto letti negli Stati Uniti nessuno legge più i giornali comunque e molte piccole città non hanno più giornali locali io sospetto che nelle elezioni amministrative locali c'è manca completamente la copertura per il Parlamento è così per il Senato i pallini sono un po' più distribuiti e nelle presidenziali anche cambia un po' comunque parliamo un po' sto per finire scusate mi concentro ancora un attimo volevo concentrarmi sulle presidenziali e quello che vi voglio mostrare è una suddivisione per dimensioni dei contributi attenzione tutte queste cifre queste ripartazioni i problemi sono enormi nel consolidare le statistiche sulle elezioni americane e io e i miei colleghi ce ne siamo resi conto più di qualunque altro altro programmi informatici abbiamo preso sistemi informatici ad esempio per un ad esempio da quelli presi da un grosso ospedale del Massachusetts comunque dove ci sono enormi variabilità dei nomi e di indirizzi comunque noi ci abbiamo provato a farlo praticamente i soldi totali al di sotto di 2,50 al di sotto di 2,50 vedete 3 a 2 Obama Romney nelle elezioni 2012 e vedete dove sono le cifre grosse dai 1.000 ai 10.000 o dai 10.000 ai 100.000 e sopra i 100.000 la mia conclusione se fate la somma e considerate tutto tutti cercano di avere la maggioranza dei soldi da quello che io chiamo l'1% possiamo discutere cos'è questo 1% ci sono tanti criteri se prendete in passato si parlava di una storia di 350.000 il New York Times ha parlato di 500.000 comunque tutti hanno la loro teoria ma sono tutti i dettagli la vera storia qui è che se uno può fare contributi al di sopra dei 500 dei 5.000 dollari comunque prendiamo la fascia 1.000 10.000 devo concludere che la politica americana è un gioco dei super ricchi in poche parole anche perché qui si includono i contributi delle aziende adesso non ho tempo per entrare nei dettagli comunque facciamo un'altra suddivisione però qui aggiungo un'altra cosa ci sono dei soldi che non figurano nella tabella non guardate qui la tabella 3 guardate me anche perché i miei figli mi dicevano sempre hai proprio una faccia radiofonica sei fatto per essere ascoltato comunque attenzione su questo punto si può fare la somma dei contributi noi l'abbiamo fatto quello che troviamo è molto interessato se si sommano tutti questi contributi quindi contributi dei piccoli meno di 200 dollari se si fa questo perché i democratici ne hanno almeno il doppio dei repubblicani di questi però anche con Obama si arriva al 35% di tutto il cash e si arriva comunque alla prevalenza dell'1% di cui parlava prima io ve lo offro così come avvertimento tante persone dicono che effettivamente le persone normali hanno un impatto zero sulle elezioni io non sono tanto convinto perché non sono a zero se fossero zero lo si saprebbe vicini a zero in molte elezioni per il congresso però nella gara presidenziale arrivano soldi da persone normali non hanno zero e qui arrivo alla mia richiesta ai ricercatori europei adesso non voglio analizzare più la politica americana però io per anni ho lavorato in questo modo uno suddivide i contributi delle grosse aziende e lo suddivide da tutto il resto questa non è una supposizione si può sostenere che le grosse aziende dominano in qualche modo fate i vostri calcoli in qualche modo però quello che voglio dire qui quello che sto cercando di spiegare si può vedere quanto iperative sono le grosse aziende praticamente il sostegno ai candidati il campione intero delle grosse aziende ipercentuali e come hanno contribuito abbiamo fatto i calcoli il mio punto è che le grosse aziende sono superattive iperattive però io ne ho parlato a lungo con i colleghi e gli amici italiani e pensano che anche nei processi elettorali italiani succedono strani macchinazioni strane cose non per forza tutte le aziende contribuiscono in uguale maniera a tutti però di questo si potrebbe parlare comunque il punto è che ci sono vere differenze tra le aziende laddove questo metodo diventa davvero interessante davvero potente e dove conta è quando si prendono i contributi da settore per settore praticamente se uno va a vedere i settori ci sono tante cose che si possono desumere tutto ciò è stato preso da una pubblicazione di economia internazionale il mio articolo comunque se si va a vedere il settore minerario il settore chimico petroglio questi sono tutti grandi inquinatori vedete la suddivisione tra Obama e Romney come aziende e vedete anche dove ci sono solo le big businesses risultati interessanti se avete l'impressione se riusciste a dare intenzione attenzione è difficile nelle elezioni americane attenzione a quello che la gente dice allora i candidati repubblicani odiavano l'idea della regolamentazione della politica e invece i democratici e Obama anche se io non sono un grande fan però ha fatto una cosa giusta storica ovvero quando la sua amministrazione ha salvato la General Motors e ha aiutato anche nella fusione della Chrysler nell'interesse degli italiani ovviamente fusione con la Fiat lui aveva anche insistito che accettassero un aumento forte negli standard per le automobili questo questo ha spezzato un cartello automobilistico che andava avanti da anni senza cambiamento perché vi posso dire visto che ho seguito il settore ho seguito come cambiava il clima è ovvio che gli standard automobilistici veramente si ripercuotono sui livelli di inquinamento gli standard sul chilometraggio eccetera basta andare in America e in qualunque città o città cinese fate un respiro e capirete quanto inquinata è l'aria comunque sono aspetti che contano io credo che mi fermerò qui potrei dire un sacco di altre cose però magari cerco di ricapitolare il punto che volevo darvi bisogna discostarsi dai risultati elettorali e dagli studi di regressione degli elettori bisogna smetterla di fare analisi retoriche delle campagne dobbiamo guardare alla provenienza dei soldi non solo nelle campagne ma anche come i soldi arrivano alla gente io sono molto colpito dall'enorme quantità di scandali che si verificano in tutti i paesi europei da quando sono qua in Europa da da 15 giorni anche in Francia il capo dell'OMP scandali dopo i scandali e poi comunque questo 1% nelle società continuano a fare tantissimo nonostante le differenze tra paesi i vostri sistemi politici stanno diventando molto distorti parlando di euro dovete ricordarvelo se sentite le persone che vi parlano di che cosa ci serve per regolamentare l'euro e per avere democrazia e non riescono a menzionare la parola banche oppure sparlando di democrazia quando le regole parlamentare europee sul conflitto di interesse sono debolissime tutti lo sanno e tutti lo sfruttano a loro vantaggio bisogna prendere sul serio il problema dei soldi e della politica è quello che è successo 4-5 100 anni fa al primo consiglio di Trento perché l'Europa quella volta è crollata potrebbe tornare a ricrollare moltissime grazie al professor Thomas Ferguson per questo vivido ritratto delle democrazie contemporanee del ruolo del big money e del big business all'interno della estrinsecazione della ridefinizione del voto e delle preferenze come sempre c'è un microfono a disposizione chi vuole porre delle questioni alza può alzare la mano e avrà la parola naturalmente sempre che questo quadro non abbia mutolito i presenti verso il fondo c'è una mano che si alza mi scusi professore ovviamente lei ha già preannunciato che il suo la sua relazione la sua lezione sarebbe stata in qualche modo orientata dallo sfondo culturale proprio nordamericano e lo abbiamo capito benissimo però a un certo momento ha detto che nell'esperienza di ieri ha ascoltato una relazione sull'eurozona e sulla possibilità di fare la banca la banca diciamo così come prestatore di ultima istanza che sarebbe poi cioè sarebbe poi insomma come risultato la possibilità di tutelare l'euro e tutelare l'eurozona beh io credo io credo di sì che questo possa essere ma la domanda che le dico io è invece questa per lei parlava di uno spaccamento dell'eurozona se non la politica non fosse accorta ma ritiene che le lobby che hanno tanto potere all'interno dell'espressione dei voti e quindi della democrazia europea come quella mondiale vogliano effettivamente la distruzione di una macro area economica che va contro anche i loro naturali e principali cioè interessi io non lo so lei come la vede qui perché io sono poco poco convinto il problema delle banche l'altra domanda il problema delle banche quelle europee in crisi se sono andate in crisi sono andate in crisi sui derivati proprio delle grosse lobby corporation bancarie cioè statunitensi o delle multinazionali e anche qui cioè secondo me non vedo proprio come tutti puntino alla questione della distruzione di un'eurozona forse sono più d'accordo con lei che le lobby all'interno di grandi macro economiche mondiali quindi di influenza geopolitica tentino di fare i loro affari questo sì come in questo caso probabilmente le democrazie del nord Europa fanno nei confronti dei pigs cosa ne pensa lei cercherò di cercherò di rispondere lei mi ha chiesto in pratica qual è la situazione del big business in relazione all'eurozona beh secondo me la situazione varia di paese in paese nel Regno Unito per esempio che non fa parte dell'euro fra l'altro però rientra nel mercato unico e non nell'eurozona ebbene nel Regno Unito è stata pubblicata una lettera sul Daily Telegraph una settimana fa in cui un gruppo di businessmen molto importanti tutti uomini fra l'altro in un linguaggio abbastanza chiaro hanno detto che se il primo ministro Cameron non avesse preso una posizione netta nei confronti dell'Europa loro gli avrebbero in qualche modo sottratto l'appoggio e lì vediamo che emerge un politico particolo contro gli migranti praticamente questo credo che sia poi il punto di convergenza e in realtà dell'autorità non sapevano assolutamente che cosa dire però lì c'è senz'altro un'interazione fra il big business e questi nuovi politici che stanno nascendo all'interno dell'eurozona poi non prevedo che in realtà molte aziende in questo momento potrebbero optare per la uscita dall'euro nel 2011 nel 2012 viceversa c'erano delle aziende tedesche importanti che stavano pensando a per esempio eliminare la Grecia o cacciare la Grecia ecco erano abbastanza definiti in questo dicevano che la Grecia non si era comprata bene per così dire e la Merkel a un certo punto ha rifiutato questa presa di posizione era un po' esitante poi l'ha rifiutata dopodiché c'è stata la posizione di Draghi ma per il momento credo che le grandi aziende in Europa temano ma in realtà nessuno nessuno cercherà di far esplodere comunque l'eurozona bisogna vedere però cosa succederà dopo ecco io sono d'accordo con Schäuble credo che il fronte nazionale in Francia sia un partito fascista come ha detto il ministro tre giorni fa molte cose in realtà durante la grande depressione in realtà sembravano essere incredibili per le grandi aziende guardate per esempio a quello che è successo guardate i giornali nel 2008 vedrete che si è verificato proprio quello a cui sto facendo riferimento io mano a mano che la situazione andava peggiorando e le alternative in qualche modo si andavano auto eliminando allora c'è stata una disparizione in qualche modo dei politici centrali e il mio consiglio può essere questo io non penso che l'Unione Europea vada trattata come qualche cosa di eterno io penso solo che non vada sbattuto per terra perché potrebbe esplodere potrebbe rompersi quindi non partire dal presupposto che non si romperà perché potrebbe rompersi magari non per questo momento ma magari successivamente potrebbe succedere se non si fa qualche cosa per cercare di ridurre l'austerità l'elettorato francese diventerà veramente strano e non sarà più allora quel problema un problema elettorale la Francia infatti ha una lunga esperienza di esplosioni di questo senso di questo tipo scusate le chiedo c'è il presidente thank you I will ask in English if you don't mind I don't mind faccio una domanda in inglese dati molto interessanti ho due domande una domanda è questa grazie per quello che ha detto sull'Europa però la prima domanda è questa sulla base della sua analisi che cosa è cambiato nella politica statunitense storicamente quando sempre più queste big businesses hanno avuto un'influenza sulla politica perché se non è cambiato nulla allora forse non ci sarà cambiamento neanche in Europa lei non ha detto che cambiamento c'è stato la mia seconda domanda è questa anzi questa è la principale domanda e poi possiamo tornare all'Europa per cercare di capire quello che ci possiamo aspettare che potrebbe succedere in Europa allora che differenza ha fatto per gli Stati Uniti io ho cercato di fare un'analisi dell'America e vi ho mostrato che cosa si può fare con i dati analizzando i dati ora nel caso degli Stati Uniti io ho un lungo paper sul congresso e uscirà anche un libro lo si può avere anche dal web basta scrivere Thomas Ferguson Hynet ritroverete questo libro comunque quello che cerco di dire quello che ho cercato di spiegare è che l'attuale situazione statunitense non tiene presente le differenze di opinione deve moltissimo invece ai problemi delle grosse aziende la paralisi del congresso e la paralisi del governo americano negli ultimi vent'anni è ricollegata a differenze tra le big businesses noi non possiamo mettere in discussione questo però sono sicuro di quello che penso e su quello che sta dietro le cose qual è il motore delle cose e allora in Europa cosa potrebbe succedere posso dirlo molto semplicemente se uno pensa che i vostri interessi siano identici all'1% di queste big businesses allora vi dovete preoccupare del fenomeno di cui sto parlando però penso che sia ridicolo quasi ogni giovane europeo che incontro e soprattutto al sud Spagna Portogallo Grecia e anche Italia tutti mi chiedono come posso venire in America come faccio venire lì da voi avete una generazione persa praticamente la situazione della disoccupazione giovanile in Europa in Spagna cosa c'è quasi il 50% è drammatico quindi bisogna uscire bisogna attirare l'attenzione serve un'Europa che attiri l'attenzione su questo problema altrimenti non ne uscirete mai io non vedo un impulso nell'economia europea qualcosa che vada avanti non vedo qualcosa di promotente si potrebbe fare si potrebbe svalutare la valuta forse potrebbe se si va a vedere il depreciamento fatto in Giappone quello che è successo e come hanno gestito le cose ci sono una dei depreciamenti concorrenziali però non sono la strada giusta lo si è vista comunque la discussione sarebbe lunga e complicata non voglio rifiutare così liquidare la domanda ma mi fermo qui grazie professore per la sua relazione in uno dei grafici che ci ha fatto vedere si emergeva che i regolatori i regulators guadagnano più di colore che sono da essi controllati vuole dire che una delle soluzioni potenziali starebbe nel ridurre la possibilità di arricchirsi di alcuni in modo tale che questi non diventino più potenti del governo è questa la sua si sono fatti i confronti fra i salari minimi i salari medi i salari massimi già negli anni sessanti e si sono messi in relazione con quello che era lo stipendio del presidente di consiglio di amministrazione bene questo era circa 70 volte poi è arrivato a 400 volte poi è arrivato a 220 volte il rapporto tra il salario minimo il salario medio e il salario della massima autorità ma da 201 non è abbastanza come rapporto di differenza tra il salario del direttore del consiglio di amministrazione e uno stipendio medio ma il problema comunque non sta tanto nel regolare il reddito bisogna far aumentare senz'altro il reddito e la popolazione insensurato e mi rendo conto che forse sia un po' utopistico quello che sto per dire no? dico sempre che se si vuole avere una garanzia di un happy ending bisogna vedere un film di Disney ma le procedure democratiche devono essere rese più solide comunque in particolare se si ha un finanziamento da parte del pubblico per esempio dello Stato cosa che peraltro si diceva sempre io non penso che in realtà nessun partito politico sopravvive con i finanziamenti pubblici almeno ai vertici del partito ecco comunque il finanziamento pubblico delle elezioni fa sì che chiunque voglia fare il proprio dovere lo può fare però in realtà non avrà nessuna possibilità se non ha dei fondi privati un mio amico per esempio lavora nel congresso e praticamente invitare qualcuno a operare a proprio favore comporta sempre dei costi in qualche modo ogni apparizione ogni lavoro di lobby ha un compenso si può vedere quanto viene pagato un senatore quanto un membro del congresso e le cifre coinvolte sono veramente importanti ecco bisogna senz'altro affrontare il problema del finanziamento pubblico dei partiti io credo che sia assurdo che una persona come Tony Blair abbia sfruttato la sua posizione ovunque lo stesso è successo per i Clinton comunque piuttosto che con moltissimi altri politici e questo trasferimento di fondi diciamo dal pubblico al privato secondo me è assurdo nessuno ha un diritto costituzionale di guadagnare facendo leva sulla propria posizione Bernanke per esempio ha lasciato la Fed e nell'arco di un paio di settimane ha fatto migliaia di dollari in una cena che è stata organizzata da sette gruppi di private equity e Geithner per esempio ha dato talmente tanti soldi questo secondo me non può più succedere ecco non è possibile che uno si arricchisca sulla base del ruolo pubblico che svolge evidentemente una soluzione perfetta non esiste però bisogna stare attenti c'è una gerarchia nella società il singolo praticamente non riesce l'uomo della strada non riesce neanche a arrivare alla fine del mese bisogna trovare dei salari in crescita se questi salari non crescono si arriverà in una sezione patologica tale per cui il denaro si concentra nelle tasche di pochi e questo si sta verificando in tutta l'Europa occidentale così come negli Stati Uniti le faccio una domanda teorica il suo messaggio è stato che queste business tolgono quasi il diritto di voto agli elettori e se fosse è possibile avere una proposta da sottoporre agli elettori secondo cui le campagne andrebbero finanziate più con fondi pubblici che privati e questo dovrebbe avere la maggioranza perché questo non si verifica ed è necessario che ci sia un grosso conflitto di interesse nei media affinché la situazione attuale si perpetui bene avete tutti sentito la domanda se praticamente se com'è se va così bene avere finanziamenti pubblici perché non ce li avete poi conflitti nei media voglio dirvi alcune cose prima di tutto negli Stati Uniti attualmente c'è un movimento per il finanziamento pubblico ci sono versioni intelligenti in tanti stati americani in Maine Arizona e anche altri esempi e credo che questo abbia avuto un impatto questa campagna però il movimento nazionale è piuttosto strano prima dell'89 nell'ex Unione Sovietica si parlava di discussioni amichevoli per persone che si sono dichiarate a favore dei finanziamenti pubblici hanno detto sì siamo a favore poi gli ho chiesto ma di cosa siete a favore e ho visto che fondamentalmente ci sono tante persone ricchissime hanno detto basta ai contributi delle aziende però non ci dovrebbero essere restrizioni sulle donazioni individuali ma anche questo è strano se ci pensate io non sono a favore di questo approccio la mia impressione è che ci sia uno sforzo molto intenzionale nel partito democratic di fare una riforma di qualche tipo però la mossa più ovvia e spero che passerà in America anche se richiederebbe un emendamento costituzionale però magari si riesce a farlo passare nelle due camere del congresso ci sarebbe la ratifica gran parte della popolazione sarebbe d'accordo bisogna cambiare la costituzione per garantire che sia chiara che serve uno sforzo ragionevole per limitare la spesa delle elezioni che questo non sia anticostituzionale questo non so se ci arriveremo è un sacco di soldi vengono spesi per il momento per dare indicazioni alle persone vedo che nell'Europa occidentale ci sono influenze praticamente ad esempio socialisti francesi che hanno quella tassa sui ricchi che aveva varato Hollande che ha fatto fuggire anche Gerard Depardieu in Belgio e altri in Russia questa tassa sul lusso sui ricchi però nessuno sostiene quello che ho sostenuto io e nessuno vuole ascoltare questo parere comunque per quanto riguarda i conflitti nei media è un problema perché si tratta di sono dei media gestiti dai big business dalle grosse aziende c'è una mescolanza e se avete dei dubbi andate a vedere quello che esce dall'impero mordo che tutte le relazioni con i politici britannici c'è tutta una rete di connessioni tanti dettagli e tutti gli obiettivi vengono messi a punto insieme aspettarsi da media del genere che ci sia una limitazione sui finanziamenti per le campagne non avverrà mai questo succederà prima che i fiumi scorreranno all'insù prima che succeda questo comunque è chiaro che la gente stufa di tutti questi soldi delle aziende nella politica però dappertutto dovunque io vada in Europa tutti si lamentano per il fatto che i politici sono corrotti e hanno quasi sempre ragione i politici sono corrotti come fare il nesso tra i finanziamenti pubblici che finiscono in corruzione ci si può riflettere però è questo che accade comunque il pubblico adesso è pronto a protestare e la gente ha capito che l'opinione pubblica ha capito che le cose vanno cambiate però soprattutto serve l'appoggio delle fasce di reddito più alte per avere l'appoggio al congresso adesso sono tornato in America quando uno quando uno fa dei sondaggi diretti sui superricchi si trova che loro sono molto conservatori per il finanziamento politico e non vogliono avere nessuna forma di limitazione quindi quindi qui purtroppo temo che non servano dei conflitti nei media anche perché se non c'è conflitto non c'è interesse loro hanno un conflitto e hanno un enorme interesse c'è una domanda in una seconda ah ok perfetto dopo allora vi chiederò scusa solo una domanda c'è nelle università americane di interesse a studiare il caso Oli Barton di Dick Cheney cioè di questo particolare modello di influenza nella politica grazie c'è uno studio che è un autore incredibile forse dell'MIT che parla proprio del caso Cheney o forse della Columbia non mi ricordo di che università comunque c'è un articolo su questo argomento avrei voluto farlo avrebbe farne un'analisi di questo ma come molti ricordo perfettamente il caso mi ricordo quando Geithner è stato nominato segretario del tesoro sembrava che fosse Babbo Natale e le aziende vicine a Geithner hanno visto salire il valore delle loro azioni in modo incredibile non sono sicuro chi è l'autore di questo studio su Cheney se non sbaglio non ero d'accordo con il taglio di quell'articolo comunque sono state condotte delle ricerche sull'argomento non molte però ultimissima ultimissima domanda adesso perché abbiamo già consumato il tempo disponibile volevo sapere che ne pensava del collegamento tra l'ideologia dell'austerità e l'idea di eliminare il finanziamento pubblico ai partiti e la politica c'è un dibattito molto vivace su questo argomento attualmente in Italia in Italia c'è un grosso finanziamento pubblico ai partiti e al mondo della politica e quindi ci si domanda se valga la pena di abolirlo si dice che sia un spreco di un euro pubblico che molte volte comporta anche corruzione qual è la sua opinione in merito grazie forse sbaglio correggetemi se sbaglio ma mi ricordo che Renzi effettivamente abbia parlato di cambiare queste norme anche nella sua campagna elettorale e io devo dire che considero queste affermazioni con grandissimo scetticismo al di là di credo che vorrei fare un commento comunque anche al modo in cui è stata posta la domanda è vero che il sistema europeo effettivamente prevede investimenti pubblici più importanti per i partiti politici per le elezioni di quanto non succede altrove spesso i politici poi ricevono anche delle quote molto rilevanti me ne ero accorta già negli anni 80 forse un po' casualmente comunque la leadership non funziona sulla base di queste donazioni c'erano molte aziende una volta che in Inghilterra vivevano grazie al sostegno pubblico e che non funzionavano sembra che le campagne richiedano investimenti sempre più importanti per esempio in Francia ci sono state campagne per Sarkozy che costano sempre di più le campagne costano di più di quanto non si dica costino e questo risulta assolutamente evidente per quanto riguarda l'Italia fra l'altro io viaggio parecchio e mi rendo conto che la qualità della vita dei leader in Europa non è proprio a livello di Presidente di Consiglio d'amministrazione comunque è così che vogliono vivere loro e a questo qui aspirano e cercano di trovare sempre i quattrini per poter vivere a quel livello e devo dire che mi interessa vedere come Blair per esempio imiti Clinton ho condotto una ricerca informale e mi domandavo che cosa succede ai primi ministri danesi quando il loro mandato scade beh non succede proprio un bel niente ma quella è la Danimarca ovviamente e la Danimarca ha una società molto più equa il 22% degli elettori hanno votato per la destra nell'ultima elezione ma è comunque solo un 22% io ho la sensazione che in società con una diversità di reddito più marcata ebbene i capi dei partiti politici vogliono sempre vivere come i grandi manager aziendali in Arizona per esempio questa leader ha indetto un pranzo per raccogliere fondi perché voleva vivere una vita con un alto livello e poi alla fine è stata in galera e questo approccio credo che valga in Europa è una situazione che non va bene le campagne costano troppo e come succede in Francia succede che ci sono questi club politici e i membri di questi club questi club raccolgono fondi che poi non vengono presentati chiaramente nei libri contaboli i membri del Parlamento per esempio sembrano sedere in più consigli di amministrazione ci sono tutta una serie di programmi tali per cui queste persone si garantiscono appunto una qualità della vita altissima la situazione credo che stia diventando veramente insostenibile se non si fa qualcosa velocemente la situazione uscirà completamente di controllo con questo forte applauso salutiamo il professor Thomas Ferguson lo ringraziamo moltissimo e ringraziamo l'Institute for New Economic Thinking per l'appuntamento di quest'oggi buon proseguimento col festival o l'ontaja in la Grazie a tutti